Ragazzi, fatemi sentire, adesso c'è il momento in passato. Ok ragazzi, dopo vi dico una cosa, lo conoscete We Are, We Are Not? Ok, dopo faremo una cosa per la prima volta al mondo, visto che c'è gente da tutto al mondo stasera, vedete che è brutto a darle spada! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!